il favore della squadra italiana Antonioni, Caprini e segna Caprini con un tiro angolatissimo che beffa il portiere bulgaro ha segnato Caprini al sedicesimo minuto il gol che rivediamo il passaggio è di Antonioni lo scatto di Caprini lascia rimbalzare una volta il pallone poi lo colpisce di sinistro e il portiere lo vede infilarsi proprio accarezzando il palo Italia 1 bulgari a 0 ha segnato Caprini è il sedicesimo del secondo tempo intervento